Mi presento, sono Erika, ho 21 anni e vivo nella provincia di Monzebrianza e studio Scienze Internazionali e Istituzioni Europee presso l'Università Statale di Milano e nel frattempo lavoro come segretaria amministrativa in un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di medical device. Penso che la scuola di politiche possa darmi l'opportunità di approfondire ciò che sto studiando nel mio percorso universitario ma comunque possa anche aiutarmi a comprendere più a fondo il vero funzionamento della politica e mi possa far comprendere cosa vuol dire fare politica e cosa vuol dire lavorare per la politica sempre in vista di un mio percorso formativo che mi porterà comunque a lavorare a contatto con la politica e nonostante io già adesso sia comunque mi stia occupando di politica sia a livello universitario che a livello territoriale.